BRX presenta risparmia acqua e soldi nella tua gelateria scopri assieme a noi il sistema di raffreddamento a circuito chiuso a vaso chiuso salva l'acqua per risparmiare acqua e soldi nella tua gelateria mantecatori pastorizzatori abbattitori vetrine espositive armadi frigoriferi ed altre attrezzature hanno spesso motori condensati ad acqua per un migliore funzionamento e per ridurre le emissioni di calore e rumore ma senza un economizzatore il sistema necessita di un continuo uso di acqua potabile quindi un notevole costo la soluzione è salva l'acqua installando un economizzatore salva l'acqua con un esclusivo circuito chiuso a vaso chiuso si elimina l'enorme consumo di acqua potabile utilizzata per il raffreddamento perché scegliere salva l'acqua per una scelta ecologica l'acqua è un bene prezioso per tutti non sprechiamola per un vantaggio economico si risparmia al 100 per cento di acqua potabile per una convenienza tecnica le macchine di laboratorio lavorano al loro meglio la produzione di gelato è più veloce non si produce calcare quindi ci sono meno costi di manutenzione ma andiamo a spiegare come funziona il sistema salva l'acqua è un circuito chiuso a vaso chiuso con acqua o in caso che il chiller venga posizionato all'esterno acqua e antigelo il chiller raffredda l'acqua del serbatoio presente nell'unità interna mantenendo la temperatura costante 12 14 gradi la pompa con inverter porta l'acqua dal serbatoio alle macchine di produzione assicurando così la migliore resa energetica il sistema migliore di raffreddamento e l'economizzatore salva l'acqua non si consuma più acqua potabile il risparmio è del 100 per cento perché si utilizza sempre la stessa acqua ecco la gamma degli economizzatori salva l'acqua linea compact linea cube linea slq linea su misura scegli anche tu salva l'acqua avrai un supporto alla progettazione ti aiutiamo a scegliere l'economizzatore più adatto allo spazio disponibile e per i macchinari da utilizzare è facile da installare ogni prodotto può essere installato anche da professionisti di vostra fiducia che saranno in grado di gestire tutte le situazioni ma potete contare sempre sul supporto salva l'acqua infine non vi lasciamo soli avrete un servizio tecnico sempre disponibile ad assistervi scegli anche tu di lasciare ai nostri figli un mondo migliore scegli anche tu di risparmiare scegli anche tu salva l'acqua tanti l'hanno già fatto fallo anche tu